Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Claire Nichols nasce nel 1981 a Portsmouth, una città portuale dalla gloriosa tradizione marinaresca, che ancora oggi è una delle più importanti basi navali della costa meridionale dell'Inghilterra. Claire cresce con i suoi genitori e due fratelli. Purtroppo le informazioni sul suo passato scarsigiano, dunque non possiamo sapere come sia stata la sua infanzia. Tuttavia, a soli 15 anni, Claire va via di casa, probabilmente a seguito del divorzio dei suoi genitori. Per Claire non è stato preso alcun provvedimento di affido, né l'adolescente è andata a vivere presso altri familiari, si è semplicemente trasferita da sola. In poco tempo incontra un uomo di nome Malcolm, con il quale convivrà per due anni. Quando ha 17 anni Claire lo lascia e inizia a svolgere qualche lavoretto per mantenersi autonoma, fino a quando compie 18 anni. È a questo punto che incontra un altro uomo di nome John Peterson, decisamente più maturo. Anche lui vive a Portsmouth, era stato arruolato nella marina militare e ha ben 46 anni. Dunque, Claire, che è a malapena maggiorenne, si fidanza con un uomo parecchio più grande di lei. Ma la differenza d'età non è l'unica criticità in questo rapporto, perché John è un pedo. Infatti era stato condannato per abusi sui più piccoli e Claire lo sa. Ciò nonostante rimane insieme a lui per un discreto periodo di tempo, e non solo, in tre anni, mette al mondo ben tre figli con quest'uomo. L'ormai 21enne Claire, da quanto vi ho narrato, potrebbe sembrare la vittima di questa storia. No? È molto giovane, non ha rapporti idiliaci con la sua famiglia ed è allacciata in una relazione con un uomo perverso, che potrebbe essere suo padre. Una situazione dove lo squilibrio di potere è un rischio concreto. Tuttavia, non è lei la vittima in questo caso, anzi. È Claire ad essere violenta con John. Lui la definisce una maniaca del controllo, una che dà di matto e perde la pazienza anche per le questioni più insignificanti. John la descrive come una manipolatrice di prima categoria, aggressiva sia verbalmente che fisicamente e possessiva fino all'ossessione. Il compagno è obbligato a comunicarle ogni suo movimento. Lei lo tiene costantemente sotto controllo e se lui fa qualcosa per cui Claire si irrita, allora lo aggredisce fisicamente. Ed è davvero facile che Claire si infastidisca. Basta che John vada al negozio dietro l'angolo a comprare qualcosa da mangiare senza avvertirla. Claire, quando succede, va letteralmente fuori di testa e gli mette le mani addosso, poi prende a pugni gli oggetti attorno a lei. Questi non sono affatto episodi sporadici, ma eventi che si verificano puntualmente ogni singolo giorno. Arriviamo al 2003, quando John sente di non farcela più, inoltre è parecchio preoccupato per i bambini. Finora il comportamento aggressivo della ragazza non si è mai riversato sui figli, ma John teme che la situazione degeneri, quindi decide di chiamare gli assistenti sociali. John spiega loro che è angosciato e i bambini non sono al sicuro, visto che Claire è una donna violenta, manipolatrice e instabile. I servizi sociali però lo ignorano, forse considerando le macchie sulla sua fedina penale. Onestamente, da una parte comprendo la perplessità degli assistenti sociali, dall'altra credo che sia necessario analizzare seriamente ogni singola segnalazione in materia di abusi sui minori. Non parliamo certo di bruscolini. I servizi sociali in realtà si limitano a telefonare a Claire per esortarla a porre fine alla relazione con John, considerando i suoi precedenti penali, altrimenti sarebbero intervenuti per portarle via i bambini. Claire, dunque allarmata, lascia John, fa le valigie e si allontana con i tre figli. A questo punto la 21enne va a vivere vicino a sua madre e a sua sorella a Newcastle, nel nord-est dell'Inghilterra. In questo periodo la ragazza inizia una nuova relazione con Steve Martin, che ha 37 anni. Adesso penserete che il problema sia l'ennesima storia con un tipo molto più grande di lei, ma la faccenda è più complicata, perché, ascoltate bene, Steve è l'ex della madre di Claire. Tra l'altro i due non erano stati insieme per poco tempo, ma per anni. Anche in questa relazione è Claire quella violenta e controllante. A quanto pare Steve ha un cui di 59 e che lo rende un uomo incline a essere manipolato e sfruttato. Insomma, Claire ha individuato la sua vittima perfetta, almeno fino a questo punto della storia, ma vi anticipo che la situazione cambierà. Durante la relazione con Steve, Claire impara a usare i rapporti intimi come un'arma e sviluppa delle tendenze sadiche a riguardo. La loro storia è assolutamente instabile, i due si lasciano e si rimettono insieme diverse volte per un paio d'anni, poi troncano del tutto. Ma Steven non scomparirà per sempre dalla scena, quindi tenete la mente. Siamo ormai nel 2005, Claire ha 23 anni, questa volta si fidanza con il 31enne Andrew Gardner, la vera vittima di questa terribile storia. Dunque, vi parlo un po' di lui. Andrew cresce a Gateshead, nel nord-est dell'Inghilterra, con i genitori Ken e Jean, e i suoi due fratelli. Con tutti i membri della famiglia ha un ottimo rapporto. Conosce Andrew, lo descrive come un ragazzo premuroso e amorevole. Adora andare al parco con i fratelli e a pescare con suo padre. Quando era piccolo i genitori avevano scoperto che Andrew ha difficoltà di apprendimento, per questo ha frequentato una scuola speciale. Una volta terminati gli studi, in realtà trova subito lavoro come parcheggiatore, tuttavia è un ragazzo vulnerabile, anche lui con un cui molto basso, incline a essere manipolato e sfruttato. A 31 anni, Andrew incontra Claire e inizia a frequentarla nel 2005, ma poco prima usciva con la sorella. A quanto pare, a Claire piace circuire gli ex fidanzati delle sue parenti. In ogni caso, i due presto vanno a vivere assieme. All'inizio tutto procede bene, Andrew riesce a inserirsi nella famiglia di Claire e ad assumere il ruolo di padre per i tre figli della compagna. Anzi, è davvero fantastico con i bambini, loro lo adorano. Tutti i vicini e gli amici lo descrivono come un ottimo padre. Li porta spesso al parco, li accompagna e li va a riprendere a scuola. Persino Claire appare come la mamma perfetta e la loro famiglia sembra quella di uno spot di merendine. Non metto in dubbio che all'esterno la coppia dia quest'impressione, ma la verità è che, quando le porte di casa sono chiuse, lontano da occhi indiscreti, emerge la reale natura di Claire. Anzi, addirittura più malevola. Fin dall'inizio della loro relazione, Claire tratta Andrew come un vero e proprio servo. Gli ordina di cucinare per tutti, mantenere pulita la casa e obbedire a ogni altra sua richiesta. Claire non tratta Andrew come se fosse il suo compagno. Non gli dimostra amore, non sa neanche cosa sia l'amore, probabilmente. Però inventa delle scuse per giustificare il suo comportamento nervoso, dicendo che Andrew è un uomo pigro, che non fa nulla per aiutarla. Un'autentica bugia. Ogni volta che lui va da qualche parte e non l'avvisa, lei lo aggredisce. Se Andrew non conclude tutte le faccende domestiche, o se non porta a casa abbastanza soldi per mantenere Claire e i figli, lei lo definisce un uomo inutile, che non ha voglia di fare niente. Uno smidollato. Claire lo riempie di insulti, ogni singolo giorno. E per ora si limita all'abuso verbale. Ma ogni parola che esce dalla sua bocca punta a sminuirlo, per intaccare costantemente la sua autostima. Purtroppo in breve tempo gli abusi diventano anche fisici. Claire aggredisce il compagno regolarmente e per questioni totalmente inutili. La donna ha delle regole ben precise, se Andrew non le rispetta, viene colpito. Claire, come se non bastasse, ora limita anche la quantità di cibo da concedere ad Andrew. Vuole ottenere il massimo controllo su di lui, approfittando della sua debolezza, anche fisica. A questo punto si occupa da sola di preparare la cena ogni singolo giorno. Si accomoda a tavola con i bimbi, mentre Andrew può soltanto sedersi sul pavimento e guardare gli altri mangiare. Non gli è permesso toccare cibo. Se ne fa richiesta, Claire gli urla contro, lo insulta e incoraggia i figli a imitarla. I bambini, che sono cresciuti con lei e l'hanno sempre vista maltrattare i partner, le danno retta. Per loro quella è la normalità. Claire a sua discolpa sostiene che Andrew sia una palla al piede che prosciuga il bilancio familiare. Ecco perché non gli ha permesso sfamarsi. Il poverino però sta letteralmente morendo di fame. In poco tempo ha perso tantissimo peso. All'inizio ogni volta che può ruba qualcosa dalla dispensa, magari un pezzetto di pane, non può mettersi di certo a cucinare un vero pasto perché Claire noterebbe che manca del cibo. Tuttavia Claire un giorno lo scopre e allora taglia tutte le tasche dei pantaloni di Andrew in modo che non possa più nascondervi dentro la misera refurtiva. Successivamente inizia a contare o pesare ogni singolo alimento presente in cucina. Andrew a questo punto non può più prendere neanche un tozzo di pane perché Claire se ne sarebbe accorta. La sua compagna senza alcun rimorso alza sempre di più il tiro delle torture e decide di impedirgli pure di dormire. Dalle fonti consultate emerge che non appena Andrew si appisolava da qualche parte Claire lo obbligava ad alzarsi e a camminare a lungo nella stanza. La privazione del sonno è stata spesso utilizzata come strumento di tortura applicata nei confronti dei prigionieri che attendevano di essere interrogati affinché confessassero reati talvolta neppure commessi. Gli sventurati erano costretti a rimanere svegli per diversi giorni e quando finalmente ottenevano il permesso di addormentarsi venivano improvvisamente risvegliati e interrogati. Privare qualcuno del sonno corrisponde a lungo andare a indurlo alla psicosi. Quindi, ricapitolando, Andrew subisce abusi fisici e verbali, sta morendo di fame e non può dormire. Intanto Claire si diverte perché ama infringere dolore agli altri. Il prossimo passo che intende compiere è isolarlo completamente dagli amici e dalla famiglia. Così gli ordina di non contattare mai più i suoi cari e gli confisca il cellulare. Andrew non può neanche uscire di casa a meno che Claire non gli dia il permesso, ad esempio quando deve accompagnare i bambini a scuola e tornare a prenderli. Andrew, un soggetto vulnerabile, non sa dire di no a Claire, non sa come apporsi, dunque interrompe davvero i legami con la propria famiglia. Non parla con i parenti per oltre un anno, anche se era tanto legato a loro. Tuttavia, dopo un anno dall'inizio della relazione con Claire, cioè nel 2006, un giorno Andrew decide di infrangere una delle regole. Va a trovare la sua famiglia, ovviamente di nascosto. Si presenta a casa dei suoi genitori da solo e quando lo vedono restano tutti senza parole. Non ricevevano sue notizie da un anno, da quando aveva dovuto dire ai suoi familiari che non poteva più avere nulla a che fare con loro. E ora, loro si trovano davanti un uomo che sembra all'ombra di se stesso. Ha perso fin troppo peso e non ha più un colorito sano, anzi, è molto pallido, sembra malato. I suoi genitori sono scioccati e gli dicono che deve assolutamente allontanarsi da quella donna, che sono disposti ad aiutarlo in qualunque modo. Se ha bisogno di supporto basta chiederlo, ma deve andarsene da quella casa per sempre. Eppure Andrew non racconta nulla di quanto subisce, non vuole che i genitori si immischiano in questa situazione, chiede loro soltanto del cibo e qualche soldo. E la sua famiglia esaudisce subito le richieste. Purtroppo Andrew non rimane da loro per molto tempo. Decide di andarsene perché teme che Claire lo scopra, quindi torna a casa il più velocemente possibile. Poco dopo Andrew prova a contattare sua nonna, la chiama ma lei non gli risponde e così le lascia un messaggio in segreteria in cui dice «Dia mamma e papà, che non potrò più vederli». Passano un paio d'anni, è il 2008 e proprio in questo periodo Claire decide che vuole avere un bambino da Andrew. Io onestamente proprio non la capisco. L'ha trattato in modo disumano per tre anni e poi decide di farci un figlio? Oltretutto non è proprio il caso di crescere un altro bambino in quell'ambiente domestico così insano. Andrew ormai vive con Claire da ben tre anni, un lungo lasso di tempo in cui non ha mai smesso di subire maltrattamenti e torture. Eppure, d'ora in poi, le cose peggiorano ancora. È luglio. Claire, che è rimasta incinta, Andrew e i bambini cambiano casa e si trasferiscono a Chilton, al 14 di Arthur Street. Vi sottolineo la via perché è nota come la casa dell'orrore di Claire. Claire partorisce una bambina e Andrew ama follemente sua figlia. Questa nuova vita gli dà la forza per continuare a supportare tutti i maltrattamenti e le torture inflitti dalla compagna. Ormai Andrew aveva perso ogni voglia di vivere, ma la piccola gli dà una speranza, lo rende felice, lo fa sentire di nuovo vivo, come non riusciva a sentirsi da anni. Ma la situazione è mai precipita ulteriormente perché Claire rafforza il suo piano diabolico. Invita a stare a casa sua due persone che si uniranno a lei nel fine di maltrattare, abusare e torturare Andrew. Il primo nuovo coinquilino della casa dell'orrore si chiama Simon, ha 22 anni e, tenetevi forte, è il fratello minore di Claire. Simon, in realtà, come la maggior parte delle persone che la conoscono, ha paura di Claire e fa tutto ciò che la sorella maggiore gli chiede. Il secondo nuovo coinquilino della casa dell'orrore si chiama Stephen Martin. Ebbene sì, abbiamo già parlato di lui. È l'ex della madre di Claire, con cui poi anche lei aveva avuto una relazione sempre basata sulla sopraffazione. Quindi nella casa degli orrori ora vivono Claire, la leader che ordina a tutti come maltrattare il proprio compagno, il povero Andrew, la vittima in difesa, Simon e Stephen, gli scagnozzi di Claire, pronti a eseguire i suoi crudeli ordini, infine i bambini, che stanno vivendo un'infanzia distorta dove la tortura è una prassi. I tre figli di Claire hanno tra i 6 e i 10 anni, mentre la figlia di Andrew e Claire è ancora una neonata. Non passa molto tempo prima che Claire vada nuovamente a letto con Stephen e, dettaglio più perfido, ogni volta obbliga Andrew a guardarli. Gode nel vedere il dolore e l'umiliazione nello sguardo del compagno. In poche parole, lei cita. Ma soprattutto, adora esercitare potere e controllo su tutti coloro che la circondano, perché quando Steve e Simon partecipano alle torture, lo fanno in quanto soggiogati da lei. Claire però non prova sufficiente piacere a vedere Andrew con lo sguardo ferito e umiliato. Lei gode nell'infliggere dolore agli altri, letteralmente. Arriviamo così a un punto di non ritorno, quando Claire e Stephen iniziano a procurare una sofferenza fisica ad Andrew. Lo prendono a pugni, a calci, gli praticano graffi e tagli sulla pelle. Poi, subito dopo, vanno a letto insieme e lo obbligano a guardarli mentre consumano un rapporto. Sull'onda della gratificazione intima, derivante dalle torture rivolte contro Andrew, le azioni meschine di Claire raggiungono un livello davvero disumano. La donna inventa costantemente nuove e diverse punizioni da infliggergli, contando sulla collaborazione di Stephen e Simon, che sono ben felici di eseguire i suoi ordini. In un primo episodio Andrew viene frustato, colpito ripetutamente in tutto il corpo con dei fili di acciaio da tenda e con degli strofinacci prima inumiditi e annodati. Andrew è ricoperto di lacerazioni, segni e lividi su tutto il corpo. Poi decidono di bruciargli la pelle in vari modi, prendono un accendisigari, lo fanno scaldare e poi lo trattengono sui piedi o sulle mani di Andrew. Arrivano anche ad accendere un termosifone regolando al massimo il calore per poi spingervi contro la schiena della loro vittima. In un'altra occasione ancora costringono Andrew a entrare nella vasca da bagno, riscaldano dell'acqua con un bollitore per poi versargiela su gambe e piedi. A questo punto il poveretto sta soffrendo davvero le pene dell'inferno, tanto che in questo periodo dal dolore non riesce neanche a camminare. Le torture però non si placano, infatti Claire inizia a marchiargli la pelle, esortando l'intero gruppo a procurarsi qualsiasi oggetto appuntito presente in casa. A volte i carnefici usano le chiavi della macchina, altre volte un coltello da cucina, graffiando e tagliando la pelle di Andrew. Il livello successivo è quello di incidere sul suo corpo delle parole, sempre praticandogli tagli e graffi, o anche una griglia per giocare a Triss con tanto di croci e cerchi. I suoi aguzzini sì sono spietati, ma sono anche folli. Le fritte di Andrew sanguinano in modo copioso, ma Claire, se ne frega, neanche gliele pulisce o disinfetta. Però si preoccupa di non macchiare la casa, quindi ogni volta che Andrew sanguina, lo costringe a sedersi su una parte di pavimento ricoperta da pagine di giornale. In questa escalation di torture sempre peggiori, Claire inizia a coinvolgere anche i suoi figli. Dapprima chiede loro di tenere d'occhio Andrew ogni momento. Alla fine della giornata i bambini devono riferirle ogni singolo movimento dell'uomo. Quando lei non c'è, devono assicurarsi che non entri in cucina per prendere del cibo. Poi Claire li incoraggia a compiere azioni ancora più tremende. Anche loro devono insultarlo verbalmente e infine addirittura picchiarlo. Ora, immaginate Andrew disteso sul pavimento sanguinante con tre bambini che gli girano intorno prendendolo a calci, a pugni e calpestandolo. Ormai Andrew si limita a raggomitolarsi per tentare di proteggersi, non reagisce mai perché si ripete che i suoi carnefici in questo momento sono soltanto dei bambini condizionati dalla cattiveria della madre. Claire, quindi, li usa come un'ulteriore arma. I bambini, tra l'altro, erano affezionati ad Andrew, che era sempre stato un buon patrigno e si era preso cura di loro. Immaginate quanti danni psicologici abbia causato questa donna ai suoi stessi figli, facendo loro il lavaggio del cervello, convincendoli che Andrew meritasse questo trattamento. A questo punto, tutti voi che state guardando questo video, magari vi state ponendo la stessa domanda. Perché Andrew non se n'è ancora andato? Perché sta sopportando tutto questo orrore senza battere ciglio, senza provare a difendersi o scappare? Il primo motivo ve l'ho già spiegato. Andrew è un soggetto fragile, ormai totalmente manipolato, forse convinto di meritarsi simile atrocità. Per di più ora in quella casa c'è anche sua figlia, non soltanto i figli di Claire. Penso che Claire abbia voluto una figlia da Andrew proprio per tenerlo sempre legato a lei, non vi sembra? Sì, Andrew potrebbe scappare portando via la bambina con sé, ma è terrorizzato. È convinto di non farcela, anche perché ora a tenerlo d'occhio ci sono Claire, i suoi figli eppure i due coinquilini aggiunti. Andrew non è mai da solo in casa, in qualsiasi momento del giorno o della notte c'è sempre qualcuno che lo controlla, che osserva quello che fa. I maltrattamenti e gli abusi continuano per anni, fino ad arrivare al marzo del 2009. Andrew non sta affatto bene, non dorme, è malnutrito e ha perennemente fame, pesa malapena 57 kg. Viene ripetutamente picchiato, frustato, graffiato e ustionato. Ha più di 100 ferite in tutto il corpo, tra lividi, lesioni, tagli, ma non è finita qui, perché adesso ha anche le costole rotte. Ormai, seppure avesse trovato il coraggio di fuggire, non avrebbe avuto le forze per farlo. Ciò nonostante, Andrew sta ancora combattendo per rimanere in vita, vuole sopravvivere per sua figlia, quello è il suo unico pensiero. Spera che prima o poi avrebbe trovato una via d'uscita, che ce l'avrebbe fatta a superare tutto questo dolore. Il 13 marzo del 2009, Claire decide di organizzare un'ennesima e feroce aggressione ai danni di Andrew. Gli urla, sei un pigro bastardo e vorrei che non ci fossimo mai incontrati. Continua a insultarlo, poi inizia a prenderlo a pugni. Anche Simon e Steve sono lì, nella stessa stanza, e ben presto si uniscono al pestaggio. Andrew è in posizione fetale, rannicchiato e cerca di proteggersi, di proteggere soprattutto la testa e il petto. E intanto prega che il pestaggio finisca presto. Ma Claire e Steven non si placano, si alternano nel prenderlo a calci e calpestarlo. Claire afferra la testa di Andrew e gliela sbatte ripetutamente contro il pavimento, poi gliela calpesta letteralmente. Infine lo fa sdraiare sulla schiena, mentre ormai è quasi in fin di vita. Claire a questo punto gli sale sul petto e inizia a saltare con tutto il suo peso. Alla fine di questo pestaggio Andrew riporta ben 21 fratture alle costole. Gli hanno poi perforato i polmoni, ha anche un'emorragia cerebrale, ma è ancora vivo. Subito dopo, come di consueto, Claire e Steven consumano un rapporto intimo vicino al corpo martoriato e agonizzante di Andrew. Infine Claire, Steven e Simon lo abbandonano lì sul pavimento e riprendono a fare gli fatti propri. E dopo ore di dolori lancinanti, Andrew muore. L'autopsia dimostrerà che era sempre rimasto vigile, anche se a un certo punto non riusciva nemmeno più a muoversi. Dopo questo ferocissimo attacco e dopo che Claire e Steven hanno finito di fare le loro cose, il gruppo si rende conto di aver calcato troppo la mano. Sono andati oltre il limite di sopportazione. Andrew è morto e ora vanno tutti in panico. Onestamente, il loro stato di sorpresa mi stranisce perché, dato come hanno agito, sembra proprio che volessero ucciderlo. In ogni caso, adesso si chiedono cosa possano fare per uscire da quella situazione complicata ed escogitano un piano ben poco geniale, ma convinte di farla franca. Arriviamo alle 23.27 di quella sera, quando decidono di chiamare il 999, che è il numero d'emergenza del Regno Unito, fingendo di essere preoccupatissimi. Raccontano che Andrew è appena rientrato a casa, ma è stato aggredito, ha subito una rapina. I paramedici si precipitano sul posto e ritrovano Andrew già morto. Si guardano intorno, esaminano il corpo e capiscono che c'è davvero qualcosa che non va. Uno di loro chiede a Claire da quanto tempo Andrew si è riverso sul pavimento in quello stato. Lei, agitata, risponde che era tornato circa mezz'ora prima. Appena è entrato in casa, aveva detto di essere stato aggredito da alcuni delinquenti e lei aveva notato che era pieno di ferite. Poi Andrew semplicemente era crollato sul pavimento. Claire sottolinea che non ha niente a che fare con ciò che è successo ad Andrew. Ma dato che i paramedici non sono inesperti, sanno che Claire sta sollevando un vortice di menzogne perché hanno misurato la temperatura corporea di Andrew e ha preso così che era morto da molte ore. Gli orari riportati da lei non quadrano e neanche la storia regge, non è plausibile. Andrew presenta delle ferite davvero terribili e un rapinatore non ha motivo di ridurre qualcuno in quelle condizioni pur di estorcergli qualche soldo. Quindi viene immediatamente chiamata la polizia che fin da subito si muove nella casa come in una scena del crimine. I detective capiscono all'istante che Andrew è stato ucciso. Non ha subito alcuna rapina. Claire, Stephen e Simon vengono arrestati per essere interrogati. Contemporaneamente viene disposta all'autopsia. Tutti e tre gli indagati cercano di attenersi alla storia che hanno inventato ma la polizia sa già che la loro versione non sta in piedi e non vuole sentire bugie. A seguito dell'autopsia infatti è stata rilevata l'entità delle ferite del povero Andrew. Prima di tutto gli esperti hanno potuto constatare quanto fosse malnutrito. Hanno osservato tutti i segni e i lividi che riporta sul corpo compresi i marchi per giocare a Triss. Alcuni poliziotti, mentre i tre colpevoli sono sotto interrogatorio, tornano sulla scena del crimine per adoperare Illuminol, che individua tracce di sangue ovunque in quella casa. Quest'ultimo riscontro dà la polizia la certezza assoluta che Andrew non è morto a causa di una rapina finita male. Andrew è stato ucciso, torturato, picchiato, maltrattato da Claire, Stephen e Simon. Durante il processo tutto il dolore che ha dovuto sopportare Andrew emerge. I patologi spiegano cosa hanno riscontrato effettuando l'autopsia, ma Claire, Stephen e Simon continuano a dichiararsi non colpevoli, quindi vanno anche a testimoniare. E a questo punto, dato che sono tutti quanti sulla stessa barca e che questa sta per affondare, iniziano a darsi la colpa vicenda. Ma nessuno dimostra alcun tipo di rimorso e quindi la giuria non ha dubbi. Sono tutti e tre colpevoli, quindi vengono condannati per l'omicidio di Andrew. La 28enne Claire viene condannata all'ergastolo e potrà richiedere la libertà condizionale dopo aver scontato 32 anni di reclusione. Stephen, anche lui condannato all'ergastolo, potrà invece richiedere la libertà condizionale dopo 20 anni. Infine, Simon viene condannato a 25 anni di reclusione. Non posso terminare questo video senza parlare dei bambini. Io non oso neanche immaginare il trauma che hanno subito. La figlia più piccola ha perso in un colpo solo sia sua madre, ossia un'assassina, che suo padre, la vittima. Mentre gli altri tre bambini, un po' più grandicelli, ma con età che non supera i 10 anni, versano in una condizione altrettanto dura. A questo punto devono fare i conti non soltanto con ciò che la madre ha fatto al patrigno, ma pure con ciò che Claire ha ordinato loro di fare ad Andrew. Oltretutto anche il loro padre biologico, John, è dietro le sbarre, condannato per aver fatto del male a una bambina di 5 anni. Un fatto accaduto ancora prima che Claire lo incontrasse, ma di cui era consapevole. Quindi questi quattro bambini sono cresciuti senza i loro genitori. Non so purtroppo dove siano finiti, ma confido che siano stati affidati a qualcuno capace di prendersi cura di loro, di accompagnarli in un percorso di riabilitazione, di amarli profondamente e in modo sano. Io ho finito di parlare di questo caso assolutamente folle. Quando vengo a conoscenza di questi casi ci tengo sempre a portarli sul canale perché c'è un sacco di gente che mi dice perché non difendi mai gli uomini? Io gli uomini li difendo quando è giusto difenderli. Insomma, se parliamo di un femminicidio non posso mettermi a difendere l'uomo carnefice. In questo caso però abbiamo una donna carnefice. E sappiate che quando leggo di questi casi che il carnificio sia un uomo o una donna per me non cambia. Provo sempre e comunque le stesse emozioni negative assolutamente e lo stesso disgusto. L'ho detto perché provo disgusto quando leggo queste cose. Trovo assurdo che una persona possa spingersi a tali livelli. Che sia un uomo, che sia una donna. Quindi sono ancora qui per ricordarvi che la violenza non ha sesso né genere e sono qui anche per chiedervi se conoscevate questo caso. Fatemi sapere tutto quello che volete qui sotto nei commenti come al solito e come vi dico sempre ci becchiamo nei commenti. Io vi mando nel frattempo un bacione. Noi ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti! Ciao a tutti!